Io vengo da Sardegna, da un paese vicino a Nuovo. Comunque sono arrivato qui guardando Facebook e poi ho scoperto che era il mio paese stesso, un paese che si chiamava Urani, in provincia di Nuovo, ne sono mangiato in un di setto ottimo per fare l'intervento dal dottor Martinco e tutti ne parlano molto bene, io mi sono trovato benissimo qui adesso, poi l'alloggio è ottimo, il personale è molto corretto, molto simpatico, ci siamo trovati benissimo sia dal lato ambientalistico, alla correttezza del personale, cioè tutto credo che sia solo da parlare ultimamente di questo studio.